Eccezionale veramente, onore al merito, in realtà la motivazione di questa pulizia è altro. Dagli il prosciutto oggi, dagli il prosciutto domani e alla fine la sede gli è passata, ma dicevo la motivazione è un'altra, è precisamente che per il buon giombetta tira aria di defenestrazione. E allora sai che il sindaco con tutti gli schiaffi che sta prendendo per via della largopentinizzazione di Taksarf doveva mettere qualche punto positivo nel carniere. E allora ecco, ha mandato a pulire qui, come sempre diamo atto, quando il merito c'è va dato e fermo rimanendo tutto il resto. Insomma, l'estremo ritardo e la necessità da parte mia di spendere tanti soldi per fargli passare la sede col prosciutto. Va bene, tanto dovevo. A proposito, domenica alle 9.30 inaugurazione del Parco del Somaro a Cocciano, mi raccomando, non mancate.